Ciao, ciao, bene, 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 bene. Si, meditavo. Vai raga, eh! Ehm... alla fine... alla fine... Ci vuole? Si, si, perché facciamo anche grande, eh. Ma era un'arbitità. No, cioè... La cante ha bisogno anche di un po' di fortuna. Questo è il problema, però... Sì, è bruttissimo, non so, però... Stavo morendo di tre. Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ho, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Grazie. 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 3 rognati che giocano la giamba non li avete visto bravo Goni dai spezia bravo Goni bravo Goni bravo Goni Goni bravo Goni bravo Goni bravo Goni bravo Goni bravo Goni ma no dieglie laремia Grazie a tutti. 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 a tutti.